Oggi abbiamo approvato in Consiglio regionale un progetto di legge a mia firma proposto dal sottoscritto, poi altri consiglieri hanno seguito e hanno sottoscritto il progetto per finanziare due importanti progetti culturali per la provincia d'Italia e per la regione Abruzzo. Parliamo del premio cinematografico di Venanzo e soprattutto dell'Associazione Pigro e quindi della promozione della figura di Ivan Graziani, della storia e soprattutto della cultura e delle canzoni di Ivan Graziani. Sono stati due progetti voluti fortemente da me e da altri consiglieri per promuovere, sviluppare e soprattutto finanziare due progetti culturali fondamentali per l'economia culturale di termo.